Lo vediamo in azione per quanto riguarda questo frangente del gioco qui bravo a liberarsi per ricevere questa prima palla poi scarico verso il compagno continua la corsa per liberarsi nuovamente bisogna dire che secondo me ha un difetto importante cioè Milan veramente impegnato nel provare a consegnare a Pioli una squadra pronta per poter iniziare a lavorare insieme il prima possibile il nome nuovo che analizziamo oggi è quello di Musa o Musa per qualche amico che preferisce accenti diversi ragazzi vedremo come sempre i suoi pro i suoi contro voglio assolutamente conoscere le vostre letture in merito a questo ragazzo ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare un like al video che ovviamente aiuta sempre passate su Emiscouting per quanto riguarda tutti gli altri social il sito internet per i corsi di match analysis e scouting se volete fare questo nel vostro quotidiano fare gli osservatori i match analyst e i data analyst formazione accesso ad offerte di lavoro nel mondo del calcio accesso a programmi professionali trovate tutti i link qui in basso in descrizione lo stesso per quanto riguarda tutti gli altri social telegram mi raccomando instagram chi più ne ha più ne metta ma 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 parliamo di Musa giocatore che ha un percorso per quanto riguarda quella che è la sua carriera anche se vogliamo particolare infatti classe 2002 americano perché nato a New York per poi trasferirsi attenzione nel 2008 in Italia al Giorgione al Giorgione in Veneto quindi la lingua la sa anche qualche bestiaire facili stereotipi a parte si è trasferito nel 2012 con tutta la famiglia a Londra dove è entrato nelle giovanili nell'Academy dell'Arsenal per poi passare nel 2019 prima nel Valencia nella seconda squadra per poi trovare pian piano più minuti in quella che è la prima squadra sempre del Valencia un giocatore che inizio con dire dal punto di vista tattico può essere anche inutile ho visto a dire il vero qualche analisi anche sbagliata per quanto riguarda quella che è l'analisi del ruolo del calciatore qui su YouTube insomma ogni tanto dei video particolari si trovano ma iniziando con l'analisi stessa ragazzi vediamo che stiamo parlando effettivamente di un giocatore classe 2002 va per i 21 anni dal punto di vista fisico deve crescere ancora un po' 1,78 per 71 kg paese di nascita come già detto Stati Uniti con passaporto anche inglese per quanto riguarda l'ultima stagione nella Liga vediamo un po' di dati che possono risultare interessanti azioni totali 1472 azioni durante le quali il giocatore è effettivamente entrato nel vivo del gioco 60% praticamente di azioni riuscite quindi tutto sommato in maniera generale un buon numero per quanto riguarda gol e assist qualcosina insomma in meno anzi molto da rivedere 0 gol, 2 assist tra l'altro nella stessa partita contro il Getafe una partita dove il Valencia insomma ha fatto relativamente quello che ha voluto passaggi totali 729 con una percentuale alta di precisione 82.4% approfondiremo il concetto perché c'è della roba interessante a riguardo secondo me dribbling non tantissimi 114 totali 50.9% di successo per quanto riguarda appunto i dribbling duelli difensivi ed offensivi 512 con una percentuale normalina va a 47.3% di successo occhio alle palle recuperate 5.31 in media per partita 48.5% nella metà campo avversaria occhio alle palle perse che però sono quasi il doppio si avvicina un po' alla statistica riguardante De Keteler per quanto riguarda le palle perse Mattonella la vedete lì la mappa di calore, la hit map giocatore che ha giocato come centrocampista centrale soprattutto spostato a destra occhio alle ultime partite che lo hanno visto giocare anche come ala d'attacco a destra per questo qualcuno si è fatto insomma ingannare per quanto riguarda il ruolo del calciatore che sicuramente è duttile però insomma io per il momento lo vedrei meglio come centrocampista centrale che è il ruolo dove ha performato più di frequente vediamo però ovviamente un approfondimento dal punto di vista tattico e tecnico perché sì i dati ci hanno introdotto a quella che è la lettura del calciatore ma c'è di più, bisogna capire se effettivamente questo ragazzo è utile o può tornare utile alla causa milanista innanzitutto tanti passaggi precisi lo abbiamo visto prima anche dal punto di vista numerico ma tutto ciò, questo fondamentale tecnico è accompagnato da una capacità tattica che a me non dispiace che vede Musa essere un giocatore abbastanza mobile per quanto riguarda spazi liberi per andare a ricevere dei passaggi lo vediamo spesso navigare nelle acque della zona centrale del campo per ritagliarsi appunto uno spazio utile qui vediamo un esempio che dovrebbe spostarsi dalla zona centrale fino alla linea laterale per dare un certo tipo di fluidità alla manovra della propria squadra precisione per quanto riguarda i passaggi forse passaggi spesso troppo elementari per questo la statistica della precisione si alza ma sicuramente non è un giocatore che rimane lì fermo immobile, nascosto, lo si deve cercare bene per dargli un passaggio quindi lo vediamo in azione per quanto riguarda questo frangente del gioco qui bravo a liberarsi per ricevere questa prima palla poi scarico verso il compagno continua la corsa per liberarsi nuovamente ricevere di nuovo palla e comunque non far ristagnare la manovra della propria squadra un qualcosa che a me piace per quanto riguarda questo ragazzo sicuramente Pioli utilizzandolo nel modo giusto ha una pelina quantomeno interessante per dare un minimo di fluidità alla manovra della propria squadra ma ovviamente occorre andare oltre perché a me il ragazzo piace anche per quanto riguarda il lavoro di gruppo tende a lavorare bene infatti con la catena di appartenenza spesso e volentieri la catena di destra durante la fase di possesso lo abbiamo visto per quanto riguarda i movimenti senza palla la comunicazione tramite passaggi con i compagni ma ha una certa qualità anche per quanto riguarda la fase di non possesso qui appunto lo vedete lavorare di squadra vedete seguire bene la manovra avversaria lo vedrete essere lì sul pezzo un giocatore che anche da quel punto di vista secondo me un minimo ci sa fare piccola parentesi ragazzi 10 ammunizioni un'espulsione che comunque sono dati insomma importanti per quanto riguarda l'aspetto disciplinare del ragazzo ma anche durante questa fase Musa c'è ve lo faccio vedere di nuovo in azione vedetelo lì lavorare bene con tutto il reparto o meglio con tutta la catena di destra qui recupera questo possesso sicuramente un giocatore attivo anche durante la fase di non possesso abbiamo già accennato quelli che sono i cartellini ricevuti durante l'ultima stagione del ragazzo ma sicuramente tutto ciò è supportato da un aspetto psicologico che va valutato quantomeno a livello professionale cioè quello dell'attenzione l'aspetto del posizionamento l'aspetto dell'intensità per quanto riguarda la corsa l'aiutare i compagni durante la fase di non possesso durante la fase di possesso occhio anche agli interventi in scivolata che sono abbastanza frequenti leggermente di più rispetto alla media sì qualche cartellino scappa ma anche questa roba qui direi per il momento meglio averla che non averla ma 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 come ben sapete non è tutt'oro quello che luccica se in generale sto parlando già comunque di un giocatore che fa bene un po' di cose ma che comunque forse non eccelle in nessuna di queste per il momento e per carità è giovane e gli va dato anche tempo allo stesso tempo bisogna dire che secondo me ha un difetto importante cioè quello di non effettuare giocate che possano dar velocità o verticalità soprattutto alla manovra della propria squadra sì si muove senza palla si fa vedere tanti passaggi riusciti perché forse spesso e volentieri banali ma se si cerca magari una giocata in più una giocata ripeto forse in verticale per quanto riguarda il proseguimento dello sviluppo Musa insomma è un po' timido da quel punto di vista in questa situazione vi faccio vedere un esempio dove il ragazzo ha movimenti senza palla dei compagni a venire incontro per andare in verticale perderà tempi di gioco per posticipare semplicemente la giocata vi faccio vedere la manovra di nuovo lì bravo a cercarsi lo spazio adatto per ricevere vedete lì si fa vedere però compagno che viene incontro che però non viene premiato è semplicemente la verticalizzazione in questo caso viene solo affidata al compagno che però effetto a questa giocata in ritardo squadra avversaria già schierata è insomma un tipo di esempio che ragazzi si ripete durante diverse partite voglio ripeterlo è un esempio occhio anche al Valencia che durante l'ultima stagione comunque a livello collettivo non è stata una grandissima squadra quindi qualche scusante sicuramente c'è ma tutto ciò per inserire durante questo particolare aspetto del gioco Musa tra quei giocatori che fanno il compitino occhio nonostante ciò è un giocatore che può tornare comunque utile al Milan che ha preso Loftus-Cheek bravo in alcuni frangenti Reinders bravo in altri frangenti tra i due sicuramente sarà Reinders il ragazzo il calciatore che si occuperà di dare in là magari anche un po' più di verticalità alla manovra del Milan un giocatore che comunque ha delle qualità che deve puntare secondo me a migliorare detto ciò come sempre ragazzi questa è la mia analisi sono super curioso di conoscere le vostre opinioni vi aspetto qui in basso nei commenti per parlarne l'analisi di oggi finisce qui come sempre spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e condividetelo se vi va è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi un salutone ed al prossimo appuntamento un giocatore che va fatto crescere forse meglio averlo che non averlo utile in tutte le fasi non eccelle per il momento in nessuna spero possa migliorare grazie